E' morto all'eta di 70 anni Larry Harvey, co-fondatore del festival di Burning Man che ogni anno in estate attira decine di migliaia di persone nel deserto del Nevada. Harvey si è spento ieri in ospedale a San Francisco dove era stato ricoverato dopo aver avuto un ictus il 4 aprile scorso. Guru della controcultura, Harvey aveva dato vita a Burning Man nel 1986 quando con l'amico Jerry Goodell diede fuoco ad un fantoccio di legno su una spiaggia di San Francisco in occasione del solstizio d'estate. A partire dal 1990 il festival di Burning Man si tiene nel deserto del Nevada, dove ogni anno in agosto attira fino a 70.000 persone ed è uno degli eventi culturali più noti negli USA che vede spesso la partecipazione di artisti e personalità dello spettacolo, come la cantante Katie Perro l'attore Will Smith tra gli altri. Nel 2015 l'ITRI evento registrò entrate annuali per 37,5 milioni di dollari. Grazie a tutti.